500.000 capi di abbigliamento per un valore di oltre un milione e mezzo di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Prato in un pronto moda a conduzione cinese nel macrolotto. È l'ultimo colpo assestato alla filiera della produzione e della commercializzazione di abbigliamento che riporta etichette con l'indicazione Made in Italy, ma che in realtà non rispetta la normativa che obbliga a indicare i dati del produttore e la composizione tessile, due elementi fondamentali per garantire gli standard qualitativi. L'ultimo sequestro compiuto in queste ore si somma ai precedenti, che solo a marzo hanno interessato 42 attività commerciali per un totale di quasi 2 milioni e mezzo di capi, con dicitura 100% Made in Italy o prodotto interamente in Italia, in violazione della legge in vigore. Il volume dei capi sottoposti a sequestro raggiunge quindi 3 milioni di pezzi per un valore di 9 milioni 300 mila euro. Continua l'impegno della Guardia di Finanza a tutela dell'imprenditoria che lavora nel rispetto delle regole di sicurezza ma che deve fare i conti con la concorrenza sleale, un fenomeno a cui la Guardia di Finanza di Prato ha dichiarato guerra, con una pressione che negli ultimi mesi è divenuta costante.